E nel lungo dibattito del Consiglio regionale di ieri passa anche con i voti di alcuni consiglieri di maggioranza un emendamento presentato da Fratelli d'Italia che vincola la Regione alla spesa dei fondi POR. Per il gruppo consigliare è stato evitato uno scippo di risorse al sud. Di parere è diverso invece l'assessore regionale al bilancio, il servizio di Alba Di Palo. Sette ore di dibattito, due proposte di legge approvate e la maggioranza di centro-sinistra che ne esce con qualche livido. A infliggerglielo è stato un emendamento proposto da Fratelli d'Italia contro cui hanno votato il Presidente della Regione Michele Emiliano e l'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese ma non alcuni consiglieri di maggioranza. La correzione proposta dai consiglieri del partito di Giorgia Meloni nasce per contrastare una norma del Decreto 18 del 2020 che per Fratelli d'Italia impone un taglio del 15% delle risorse destinate al mezzogiorno. Uno scippo per il gruppo consigliare evitato anche grazie ad alcuni consiglieri di maggioranza. Nessuno scippo di risorse al sud, questo tema non esiste, forse la minoranza non ha ben capito di cosa stiamo parlando. È stata la replica del responsabile dei conti regionali piemontese che ha annunciato la discussione sulla rimodulazione del programma operativo regionale che consentirebbe di usare immediatamente risorse altrimenti inutilizzabili. Per farlo però il Governo nazionale sta predisponendo una delibera cipe. Usiamo subito le risorse POR per l'emergenza Covid perché siamo in emergenza, ha sottolineato Piemontese, che ha parlato di equivoco di fondo per poi chiarire che Emiliano non firma accordi per cedere risorse ma per far sì che si possano usare le risorse subito per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica.